lisa mazzucchelli business sport 24 oggi parliamo di sport perché il governo ha tagliato il ministero dedicato e ice dice che la ripresa passa anche da noi il presidente dell'associazione italiana cultura sport rivolge un appello al premier draghi tra le novità introdotte dal governo draghi c'è appunto quella dell'abolizione del ministero dello sport in merito all'assenza di un ministro dedicato il presidente dell'associazione italiana cultura sport bruno molea ha rivolto un appello al presidente del consiglio il governo non si dimentichi di quanto lo sport generi politiche sociali ed economia ha puntualizzato sono posti di lavoro e benessere sociale presidente draghi la ripresa passa anche da noi quello che molea si è augurato è che arrivi una delega che non sia solo di facciata perché in italia quasi 100.000 associazioni muovono oltre un miliardo di euro in volontariato e oltre 300 milioni di euro in spese commerciali e milioni di euro di risparmio di spesa sanitaria pertanto lo sport non è solo benessere fisico e movimento sport vuol dire anche politiche sociali e punti di pil leggete l'articolo completo su www.business24tv.it io vi ringrazio e vi saluto ci vediamo domani con una nuova puntata di business sport 24 ciao